Voi residenti di via Masci siete preoccupati in primo luogo perché avete visto non rispettate le distanze di sicurezza dal ciglio stradale quando è stato edificato questo muro di cinta? Allora, questo non è un muro di cinta, specifichiamo, questa è una terra armata quindi è paragonabile, anzi è un'opera edilizia a tutti gli effetti. Tutte le abitazioni che sono qui su lungo via Filippo Masci hanno dovuto mantenere la distanza di 30 metri dal bordo del ciglio stradale. Adesso la strada è diventata addirittura statale quindi non è neanche più una strada provinciale per cui le distanze secondo la normativa dovrebbero essere addirittura superiori, 40 metri. Teniamo conto che questa terra armata non è stata edificata per contenere un dislivello oppure una situazione di pericolo, di frana, di qualcosa perché questo terreno è sempre stato così da anni. Noi non abbiamo mai avuto problemi quando ci sono state le piogge, anche le più copiose. La collina qui di fronte, che è così da tempo immemore, era una collina dolce, anzi addirittura la parte che arrivava vicino alla strada era pianeggiante. Quindi questo muro non può essere stato eretto per contenere nessuno smottamento, nulla di simile. È stato edificato l'altro anno, quindi stiamo parlando di esattamente 12 mesi fa, quando hanno cominciato a riportare tutta la terra che scavavano dalla parte vicina all'autoparco. Quindi stavano scavando dalla parte dell'autoparco, tutta la terra veniva ammucchiata qui di fronte, veniva battuta e noi abbiamo avuto dei problemi gravissimi perché avevamo la casa che tremava, i bicchieri che tintinnavano. Oltre al disagio acustico c'è anche un disagio visivo dovuto proprio a questo impatto che voi avete adesso quando uscite di casa e vi chiedete anche cosa accadrà in futuro. Certo, intanto ci chiediamo cosa verrà edificato sopra questo terrapieno, sopra questa terra armata. Non sappiamo se saranno edifici, se saranno parcheggi. Fatto sta che a nostro avviso, quindi ci siamo riunite più persone, più residenti, a nostro avviso è stato effettuato qualcosa che va al di là del diritto verso i terzi. Cioè che non si è tenuto conto di noi che siamo abitanti di chiedi da tempo immemore, ci hanno abbandonato in questa situazione, nessuno se ne è interessato e noi stiamo cercando di comprendere chi ha autorizzato tutto questo e se c'erano i presupposti per farlo. Grazie. Grazie. Grazie.